Buonasera gentili e spettatori, vi ringrazio come sempre per seguire l'appuntamento con l'informazione di Reitv. La apertura la dedichiamo questa sera a quella che è stata la scoperta di una tratta di schiave, nel vero senso della parola, da parte della mafia nigeriana e un'operazione è stata portata avanti su tutta l'Italia grazie anche alla collaborazione di una ragazza nigeriana che è riuscita a scappare dalla grimpia dei suoi aguzzini, i proventi economici di rilevanza notevole. Giovanissime, molto belle, con la speranza di un lavoro in Italia o in altri paesi europei. Ce ne sono anche minorenni, finite nel giro spietato della prostituzione dopo aver pagato anche 30.000 euro per il viaggio. Li adescavano in base al loro aspetto fisico, tale compito era riservato ai genitori degli indagati. Un'organizzazione criminale con basi in Nigeria, Libia ed Italia ha messi nel testo in strada. Una sorta di battesimo del meretricio delle malcapitate che avevano giurato fedeltà con rito voodoo e di pagare il debito. In 10 sono stati arrestati, 4 sono ricercati dalla polizia di Stato, 6 sono donne. Le indagini condotte dalla squadra mobile sezione criminalità straniere e prostituzione di Catania erano partite a seguito di uno sbarco al porto Etneo nel 2017. A capo del traffico trasnazionale il nigeriano Osas Abbasbon, mentre Nelson Ogbevi si occupava del prelievo delle ragazze dai centri di accoglienza italiani. Questa indagine ha dimostrato che questo gruppo criminale, benché possa sembrare sigo, ma che comunque è abbastanza efferrato e delle cellule operative distribuite non solo sul territorio nazionale ma anche in alcuni paesi europei. Ricostruito il modus operandi, in Libia una coppia di complici si occupava di avviare la traversata verso l'Italia. Nelle intercettazioni le informazioni scambiate con il capo, le donne indicate come macchine, merce. Fondamentale la collaborazione delle vittime precise al capo della mobile di Catania, ragazze manipolate in soggezione, tanto forte da ricadere nelle mani degli aguzzini. La testimonianza di una giovane arrivata proprio nel 2017, che fine ha fatto questa ragazza? Questa ragazza al momento abbiamo perso le tracce, mi piace dire così, però è una ragazza che ci ha consentito di far luce su questo gruppo criminale. Questo è un messaggio che io voglio inoltrare, chiaramente, per queste giovani vittime di avere fiducia in noi, di avere fiducia in quelle associazioni che si occupano del recupero di queste giovani vittime. L'operazione Promise Land, terra promessa, è assicurato alla giustizia a veri professionisti del traffico di persone. Alcuni degli indagati erano persino regolari e godevano del programma di protezione in Italia. Ogni vittima ha un debito di ingaggio di 25 mila euro che deve pagare ai loro aguzzini. E lo sfruttamento della prostituzione è finalizzato soprattutto a questo. Abbiamo ricostruito un giro di affari di circa 1 milione e 200 mila euro che erano destinati dal gruppo criminale al paese d'origine, Nigeria. Restiamo nel campo della lotta alla criminalità organizzata e parliamo del sequestro che è stato effettuato al clan Mazzei. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un provvedimento di applicazione di misura patrimoniale che era stato emesso dal Tribunale di Catania Sezione di Misure Prevenzioni che è finalizzata al sequestro di un patrimonio illecito nelle disponibilità di Gioacchino Massimiliano Intravaia, affiliato di spicco di Cosa Nostra Etnea, clan Mazzei, e della moglie Concetta, Simona Mazzei, figlia del capo storico del clan Santo, sorella di Sebastiano Detto Nuccio. Si tratta del sequestro di tre appartamenti e di uno bar, nonché di disponibilità finanziarie che sarebbero riconducibili a Intravaia e alla moglie per uno totale di circa 335 mila euro. Dalla 2000 alla 2016 i finanzieri hanno evidenziato come i coniugi non avevano entrate reddituali sufficienti a giustificare le spese correnti e l'acquisto dei beni sottoposti oggi a sequestro, patrimonio evidentemente acquisito, secondo l'accusa, con denaro provento delle attività deluttuose di Intravaia. L'uomo è stato raggiunto nel 2014 da ordinanza di custodia cautelare in carcere per la sua partecipazione all'Associazione Mafiosa dei Carcagnosi sino al 2012 e per l'ipotesi di intestazione fittizia di beni per quanto concerne l'ipotesi associativa, la stessa è stata validata dalla Tribunale del Riesame, poi seguita da una condanna non ancora definitiva alla pena di 11 anni. Nel 2015 è stato destinatario anche di un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'affiliazione al clan di Santo Mazzei. Secondo le indagini, il rapporto di parentela con i reggenti del clan si estrinsecava nell'affiancare Santo Mazzei nella gestione del gruppo mafioso. Gli accertamenti patrimoniali eseguiti dai finanzieri hanno consentito di tracciare analiticamente il profilo dei coniugi in travai e mazzei di ricostruire il quadro patrimoniale, allora riconducibile, individuandone così gli asset illecitamente accumulati con risorse finanziarie di provenienza illecita. Cambiamo decisamente argomento e andiamo ad Augusta dove quest'oggi l'assessore regionale alle infrastrutture è andato a visitare l'autorità portuale di Augusta per vedere un po' quali interventi da effettuare. Vi ricordo che il porto di Augusta è uno dei più importanti in Italia e però non è mai stato sfruttato adeguatamente alle sue potenzialità. Concedere le autorizzazioni per liberare le risorse che ci sono e ultimare l'area portuale di Augusta nel Seracusano, la seconda più importante d'Italia per movimento merci e prodotti petroliferi che da soli pesano sulla bilancia dei ricavi che ammontano a 315 milioni di euro per circa l'80% del fatturato complessivo e quanto è emerso stamane nel corso di un incontro tra l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone e il presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata. Il colloquio si è concentrato soprattutto sul rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale, terminal container, la diga foranea e il piano rifiuti. I fondi ci sono e sono interni al sistema del porto che si estende su un'area complessiva di 23 milioni di metri quadrati per 2 chilometri di banchine e un traffico di 28 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi e una tonnellata di merce varia ed è proprio sul segmento merce che i vertici della governance portuale premano per ampliare i ricavi e investire in occupazione. L'autorità del porto ha accantonato le somme necessarie per il lavoro dell'area container, 70 milioni di euro, la diga foranea 12 milioni di euro e il secondo stralcio dei lavori portuali, 50 milioni di euro, le cifre estrapolate da Massimo Scatà dell'Ufficio Affari Generali. Implementare il sistema dei container darebbe il via ad un piano di assunzioni. Ad Augusta, spiega il presidente dell'autorità portuale annunziata, transitano 100 mila container l'anno ed è solo un passaggio tecnico, carico-scarico, verso altre destinazioni. La manipolazione delle merce avviene altrove. Con la migliore organizzazione dei siti di stoccaggio il numero potrebbe decuplicare nel giro di qualche anno e dare sfogo alla forte richiesta occupazionale del territorio. Abbiamo una miniera a disposizione ed è un peccato non utilizzarla per tutta una popolazione, per tanti ragazzi che hanno bisogno del lavoro oggi, per un'imprenditoria capace che è in Sicilia, che è nel sud e che da tutto il mondo guarda alla Sicilia. Però a patto che la Sicilia orientale e tutta la Sicilia, parliamo di noi, Catania, Augusta e tutta questa fascia qui, si modernizzi per un piano industriale e per un piano infrastrutturale moderno. Ecco, il tempo che si è perso nei decenni scorsi addirittura può diventare un vantaggio oggi per avere un'industria portuale la più moderna possibile, ristrutturando il tutto, avendo obiettivi precisi, aree da destinare per il turismo, altre aree per l'industria e il commercio. Il sistema organizzativo dei porti siciliani è al centro di un ambizioso piano di rilancio della regione. L'assessore alle infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone ha in programma un giro conoscitivo della situazione portuale regionale e guarda con l'interesse alla strutturazione di una grande rete in grado di gestire flussi commerciali e turistici, ognuno con le proprie aree di competenza sulla scorta delle peculiarità portuali. Sicuramente è una delle più importanti realtà infrastrutturali dell'isola e proprio per questo il governo musumeci oggi è qua per fare una visita assieme al Presidente Annunziata, ai tecnici, ai funzionari per capire le potenzialità. Alcuni problemi ci sono, ci sono delle opere che devono essere ancora realizzate, ci sono delle autorizzazioni da rilasciare e proprio per questo motivo noi siamo qua innanzitutto per renderci conto. Stiamo facendo un giro su tutte le infrastrutture portuali dell'isola, siamo stati settimana scorsa a tre mestieri, oggi siamo qua ad Augusta, saremo settimana prossima a Catania, insomma faremo un giro a Terminimerese ma anche a Palermo perché vogliamo renderci conto dei problemi per poter trovare agli stessi adeguate soluzioni. Adesso ad Acireale l'allentamento delle restrizioni che sono state applicate per quanto riguarda il coronavirus e anche la bella stagione che è ormai alle porte spinge a stare sempre più fuori anche per una questione di rivalsa rispetto alle restrizioni. Allora a questo punto i comuni intervengono in particolare ad Acireale da oggi, da questa mattina alle 11, ZTL al centro, questo dà la possibilità o darebbe la possibilità a molti esercizi commerciali di avere più spazio a disposizione. Il servizio. È scattato ufficialmente dalle 11 di stamattina la zona traffico limitato in via sperimentale nel centro storico di Acireale sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre con chiusura al traffico veicolare sino alle ore 24. Interessata dall'approvvedimento Piazza Duomo, via Ruggero VII, via Padri Filippini, Vico degli Studi, via Davi, via Cavour nel tratto compreso da Piazza Duomo a via Lessi, via Santo Stefano, via Topazio, piazza Marconi, piazza Mazzini, fatto salvo il transito da via Platania e via Musumeci e ancora via San Giuseppe dall'ingresso sud del parcheggio a via Platania, Vico San Benedetto, piazza di Citria da piazza Marconi sino alla confluenza di via Scinà con via Ardita e via Giovanni Meli. Altri provvedimenti in vigore tutti i giorni feriali con orario dalle 20 sino a luna di notte nella zona tutta intorno a Piazza Duomo con apposita indicazione nelle vie istituite inoltre il divieto di fermata su Piazza Duomo per l'intero orario e predisposte anche le relative autorizzazioni per gli eventi diritto come gli abitanti in zona o i detentori di permessi speciali. La pedonalizzazione del centro storico consentirà nell'era post covid di sfruttare al meglio gli spazi esterni per i locali insistenti in zona. È un modo migliore per apprezzare la nostra bella città e quindi poterla vivere. Spesso se ci affacciamo mi capita di affiacciarmi qua dal balcone sendo i bambini che corrono in piazza anche con le biciclette e quindi spero che questo qui permetta di vivere meglio appunto la nostra zona e quest'anno viene integrata anche la Piazza Marconi e quell'area circostante quindi speriamo che questo possa spingere altri imprenditori a investire su quel territorio e quindi che è il vero centro storico di Acireale e quindi riuscire a attrarre anche persone dai comuni vicini e far vivere la nostra città. Al via la ZTL Acireale bisognerà abituarsi ma è un provvedimento mirato anche ad incentivare quello che poi può essere lo sviluppo turistico della zona del centro? Assolutamente sì, è un provvedimento che era assolutamente inevitabile. C'è stato il periodo del lockdown dove tutti noi ci siamo abituati a vivere la città in maniera diversa e ritengo che l'attesa che è stata abbastanza lunga oggi dovesse essere conclusa. Noi abbiamo redatto un piano generale del traffico urbano che prevedeva questo provvedimento provvedimento a cui io sono molto legato perché il centro della città deve essere vivibile e deve essere sostenibile per i cittadini. Sono scelte difficili perché determinano criticità in altre parti della città ma noi stiamo lavorando anche su un piano infrastrutturale della mobilità che è molto più ampio. Lunedì porteremo in giunta due importantissimi progetti che fanno capo ad agenda urbana quindi speriamo di mettere le basi affinché questa città possa veramente avere un futuro anche dal punto di vista della tutela ambientale favorevole e questo può avvenire non solo con questo tipo di provvedimenti ma anche con la realizzazione di sistemi e di infrastrutture. Bisogna avere pazienza, sono provvedimenti che danno i risultati a lunga scadenza e io spero che questi risultati possono essere apprezzati a breve ma soprattutto a lunga scadenza e soprattutto per il futuro di questa città. E da Cireale a riposto in particolare la zona di Torrarchirafe che è una zona ad alta vocazione turistica anche da quella interna il sindaco caragliano sta approntando delle situazioni particolari appunto per migliorare la vivibilità e la fruibilità di questa zona marinara. Sentiamo. Riposto si prepara alla stagione estiva zone a traffico limitato e modifiche alla viabilità fino al 20 settembre. In particolare la chiusura, le auto del lato est di piazza Vagliasì in dietro archirafi con la pedonalizzazione del centro storico dalle 20 a luna di notte e poi ancora in Corsa Italia nel tratto compreso tra via Flavio Gioia e via Gramsci, via Archimede nel tratto tra Corsa Italia e via Cavour, via Cavour nel tratto tra via Archimede e via Lepanto e strade annesse. Una inversione del senso di marcia di via Regina Elena direzione nord-sud da Corsa Italia via Circonvallazione e poi ancora zone a traffico limitato 24 ore su 24 in tutte le strade della frazione di Torre Archirafi nella zona est su via Marina, via Marco Polo, via Simone Grasso e via Turiferro. Si tratta di modifiche parziali. In un mese infatti a riposto ci saranno altre modifiche sulla base delle esigenze non solo dei turisti che verranno in massa ma anche di coloro i quali qui hanno attività economiche. Creare una zona di pedonale con ambi i parcheggi è una viabilità che possa venire incontro per le esigenze del traffico e quindi essere più fruibile ma tutto in chiave di lettura che è quello di avere più disponibilità e più fruibilità ai nostri cittadini e a chi viene a visitare il riposto anche dal punto di vista della nostra area mercatale. La grossa novità è quindi valorizzare ancora di più quel bellissimo borgo che ormai è sede della movida notturna della nostra riposta ma pedonalizzare nelle ore serali la pedonalizzazione sarà estesa fino alla zona ex ostello. Non si tratta solamente di un miglioramento viario della viabilità della nostra città ma soprattutto è un messaggio importante a livello culturale. Le isole pedonali e ZTL permettono di vivere a pieno la città. Quello che chiediamo ai nostri concittadini è di viverla a 360 gradi, di conoscere ogni angolo della città per poterla apprezzare di più. Siamo in un periodo unico, un periodo in cui dobbiamo muoverci continuamente e l'amministrazione da me presedute giorno per giorno costantemente a lavorare per non soffrire, non perdere quel vantaggio che abbiamo acquisito in questi anni. Abbiamo detto che il riposto è passato a quasi mille posti di recettività perché i ticati sono 800, poi c'è il sommerso. Abbiamo visto che sono aumentate le ristorazioni, i ristoranti, i negozi e quindi non vogliamo perdere, anche se è un periodo particolare, è un periodo di crisi, noi dobbiamo rilanciare, dobbiamo investire. L'investimento è anche creare la possibilità di aumentare gli spazi, il dimensionamento per questa attività sfruttando tutto quello che sono nel centro, in verifia, nel borgo di Tore, tutti quegli spazi che ci danno rilancio, produttività e allo stesso tempo acquisizione di quel vanto che ci stiamo portando avanti, della nomea di essere al centro del territorio e riposto il porto dell'Etna perché la sua naturale collocazione è tra mare e montagne. E anche a Catania ci giunge una comunicazione da parte dell'amministrazione comunale dove per tutte le domeniche di giugno, a partire dalle ore 15.30 fino alle 20.30 non si potrà circolare con le auto. Adesso spostiamoci ad Agicatena ma in particolare nella zona di Santa Venera al Pozzo, un luogo molto importante per quanto riguarda il turismo ma anche per quelle che sono i resti delle famose terme che si trovavano in quella zona, le terme di Santa Venera al Pozzo. Un incendio questo pomeriggio, non si sa se sia naturale o sia stato appiccato ma fortunatamente non ci sono stati molti danni. Sentiamo. Solo lambiti dalle fiamme i ruderi termali e la chiesetta medievale ricadenti nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo in territorio comunale di Agicatena dove nel primissimo pomeriggio di oggi un incendio ha divorato parte della vegetazione spontaneamente cresciuta nel parco chiuso da mesi per lavori di riqualificazione e ottimizzazione del sito. Le fiamme avrebbero avuto origine intorno a mezzogiorno da via Pescheria all'esterno del muro di cinta che delimita l'area archeologica dove è stato rinvenuto dalla polizia locale il vecchio sedile di un'autovettura completamente bruciato. Le alte vampe avrebbero attinto un albero che ricade però all'interno del sito e da lì il fuoco avrebbe avuto vita facile nell'aprirsi la strada all'interno del parco. Ad un certo punto si è pure temuto per i ruderi termali e per la chiesetta medievale tant'è vero che il vice paroco di Aci San Filippo Don Arturo Grasso entro il cui confine territoriale ricade la chiesa di Santa Venera al Pozzo è entrato nella chiesetta per salvare la statua di Santa Venera risalente al 1600. Il roghe è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Acireale poco dopo le ore 16. Non sarebbe stato possibile intervenire prima in quanto tutte le squadre dei pompieri erano già al lavoro in diverse aree del territorio proprio per lo spegnimento di altri incendi. Sul posto anche la direttrice del parco archeologico e paesagistico di Catania e Valle dell'Aci Gioconda Lamagna che per lunghe ore è rimasta incollata al telefono alla ricerca di un aiuto. Nei giorni scorsi i forestali avevano svolto un sopraluogo a Santa Venera al Pozzo programmando la scelbatura e la pulizia del sito anche per consentire la ripresa dei lavori e la fruizione del parco da parte dei visitatori. Nelle prossime ore la sovrintendenza effettuerà ulteriori ricerche per valutare eventuali danni ma da una prima ricognizione sembra proprio che sia il sito termale che gli altri resti archeologici così come la chiesetta non abbiano subito conseguenze dirette dall'arrogo. Adesso parliamo di sanità lo facciamo grazie a quella che l'interrogazione che l'onorevole Barbagallo ha presentato relativamente ai ritardi che la sanità ha accumulato sono circa 80.000 nella provincia di Catania coloro i quali debbono essere sottoposti a delle visite. Naturalmente fermo restando tutto quello che si è portato via il coronavirus però bisognerebbe velocizzare e di molto. Sentiamo. Sistema sanitario regionale in panne dopo la fase emergenziale che nei mesi scorsi aveva portato alla sospensione delle attività ambulatoriali e prestazioni meno urgenti. Sono decine di migliaia le prenotazioni dei pazienti da smaltire. Visite specialistiche di fatto bloccate per l'arretrato e pazienti in attesa adatta da destinarsi. Preoccupato si dice il deputato, segretario regionale del PD Barbagallo, che ha già presentato un'interrogazione al governo regionale affinché intervenga. È intollerabile, serve una risposta pronta da parte dell'organizzazione della sanità regionale per definire un calendario di accessi e di espletamento di tutto l'arretrato. A questo si aggiungono le misure nazionali anti-covid sui ricoveri che riducono i posti letto già carenti. Devo dire che non aiutano le sensazioni degli ultimi giorni perché stanno intervenendo ancora prescrizioni più rigide per quanto riguarda il ricovero e le possibilità di ricovero perché le stanze da quattro posti letto stanno diventando di due posti letto, quelle da due posti letto di un solo posto letto, quindi c'è una riduzione sensibile anche dei posti letto. Insomma, servono interventi pronti, urgenti, che diano la possibilità ai siciliani di effettuare le visite specialistiche. Eppure replica, l'assessorato regionale con circolare del 21 maggio, sono state date tutte le indicazioni per la ripartenza immediata. Da Palermo si monitora, ma l'arretrato ha numeri importanti e a gestirlo sono le varie aziende. Solo in provincia di Catania circa 65.000 prenotazioni da smaltire. Ma con quali tempi? Per recuperare questa attività pregressa e sospesa anche prestazioni il sabato e la domenica. Quindi in alcuni poliambulatori della nostra provincia ci sarà la possibilità di fare la visita anche di sabato e di domenica. I nostri pazienti saranno chiamati anche per il weekend, invece di andare al mare, magari faranno una prestazione sospesa. Quando tutto questo sarà possibile? Vedo che lei parla al futuro, ma già al presente c'è chi ha veramente bisogno di effettuare, di fare le visite. Allora, il presente è prossimo circa l'operatività di questo fatto. Noi immaginiamo che dalla settimana prossima già saranno richiamate le prime persone. Questo perché abbiamo dovuto rimodulare la nostra offerta. Ad agosto le nuove prenotazioni, ma è un altro tasto dolentissimo. I CUP di fatto non funzionano. Impossibile per gli utenti avere assistenza. Abbiamo chiesto risposte al direttore amministrativo ASP Catania. Stiamo studiando varie soluzioni e varie opzioni, anche cercando di coinvolgere altri canali di prenotazioni come ad esempio i medici di medicina di base o le farmacie presenti nel territorio che potrebbero costituire un ottimo canale per aumentare le possibilità di prenotazioni. Per quanto riguarda gli inariempimenti che abbiamo registrati con la ditta, stiamo assumendo tutte le iniziative a tutela dell'interesse pubblico. Andiamo a Giarre. Il Palatenda, che è stato uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la possibilità di fare sport, rischia di non avere un futuro. E questo si andrebbe ad aggiungere a tutte le cose che a Giarre non hanno futuro, ma non hanno neanche presente. Vediamo un po' che cosa sta succedendo. Fra l'altro è stata lanciata una campagna per mantenerlo oltre 400 le firme che sono già state raccolte. Sentiamo. Salviamo il Palatenda, la petizione a sostegno di una struttura la cui esistenza è messa a rischio per un contenzioso tra l'amministrazione comunale e l'ente che lo ha fino adesso gestito, ha già registrato oltre 400 adesioni. A lanciarla Salvatore Caltabiano, che questo impianto lo ha visto nascere, morire e nuovamente risorgere. Io ho iniziato con il Palagiorre nel lontano 2011, quando la struttura praticamente era una struttura fatiscente, priva di ogni cosa, senza nulla all'interno. Gli spalti di cemento erano solo cemento, non vi era alcun tipo di seduta. Successivamente la società che si è occupata della gestione si è presa carico di tutto quello che era il rifacimento della struttura, metterla a norma con le certificazioni, perché bisogna anche sottolineare il fatto che non vi era alcun tipo di certificazione, quindi comunque loro hanno ricostituito quella che era la parte burocratica per metterla a disposizione di tutti quelli che sono poi le utenze che facevano uso di questa struttura, quindi il patinaggio sul rotello e il patinaggio sul ghiaccio, è stata la prima società per due anni col patinaggio sul ghiaccio e poi successivamente col patinaggio artistico sul rotello. Si sono poi attrezzati di patinaggio corsa, mountain bike, skateboard, tutte queste attività sportive. Il Palagiorre è stato anche un centro congressi con riunioni di comunque grande spessore, eventi religiosi, eventi sociali, concerti, tutto quello che sia. Chiaramente adesso con la struttura chiusa risulta tutto più difficile. Ci sono anche un sacco di allievi, quasi 140-150 allievi che si allenano in maniera agonistica per delle gare e tutto che letteralmente si trovano sfrattati da quella che era il loro nido perché li hanno cresciuti all'interno della struttura. Da piccoli si sono poi evoluti con l'età e tutto, gare e sogni che magari con la struttura chiusa non riusciranno poi a raggiungere. Io credo che il lockdown con il coronavirus abbia bloccato un po' tutto quello che è il business a livello internazionale nel mondo direi, però chiaramente quelle che sono le vicende burocratiche io credo che debbano essere messe un po' da parte e per una struttura del genere che era un'incompiuta al giorno d'oggi con tutte queste utenze che comunque la frequentano, penso che la burocrazia possa un po' essere messa da parte e far di tutto affinché quella carta, quel documento possa arrivare e far sì che la struttura riprenda le sue operazioni di base che hanno sempre portato avanti. Adesso a Mascali dove domani comincia la sanificazione del territorio ma anche l'intervento straordinario per la pulizia del litorale a Fondaghello visto che stiamo arrivando a quella che è la fruizione maggiore che il piccolo centro di Fondaghello ha nel periodo estivo. Servizio. Interventi di disinfestazione nel comune di Mascali nelle sue frazioni oggi e domani sarà effettuato un intervento larvicida e di disinfestazione contro insetti volanti e striscianti e l'iniziativa dell'amministrazione comunale in concomitanza con l'arrivo della bella stagione. Attenzionata comunque anche la zona a mare in particolare sulla litorale di Fondaghello dove gli interventi saranno mirati ad offrire il necessario decoro a quanti hanno già cominciato a frequentare gli accessi al mare del comune mascalese. Abbiamo da contratto ma abbiamo sollecitato l'impresa in questi giorni perché le necessità sono evidenti a tutti di avere un territorio nella piena salvaguardia. Questo contestualizza anche tutti i lavori che abbiamo iniziato dopo il 3 giugno perché erano state interrotte di pulizia, di scerbamento del territorio perché gli operai, tengo a precisarlo, gli operai che stanno facendo lo scerbamento, molti operai che stanno realizzando soprattutto opere di pulizia da parte dell'impresa erano stati impegnati in quel periodo del Covid per salvaguardare quello che era un sistema determinato dalla legge per chi era in quarantena. Pertanto chi era in quarantena c'era un servizio particolare, pertanto servivano uomini in numero maggiore. Sono stati utilizzati per risparmiare l'ente e non aumentare quelli che sono i costi le stesse persone che dovevano fare lo scerbamento e tutto il resto. Pertanto credo che sia stato utile al territorio poter avere una gestione attenta di tutti questi servizi. Oggi diventa essenziale fare la disinvestazione. Interventi importanti per la pulizia anche del litorale, l'estate è ormai praticamente arrivata. Dal 15 di giugno inizieranno la pulizia della spiaggia, è un contratto che è in essere da qualche anno, ora poi avremo il nuovo contratto perché è stata vinta la gara da una nuova impresa e pertanto inizieremo dal 15 a pulire la spiaggia, nello stesso tempo già sono programmate sia le mini isole ecologiche sulla spiaggia che la realizzazione delle passerelle come facciamo ogni anno. Quest'anno aumenteranno di circa 5 o 6 passerelle in più perché lo scorso anno grazie a delle economie che abbiamo potuto fare abbiamo potuto acquistare altre passerelle. Gli operai ora sono impegnati su Fondachello ma anche su tutto il territorio, in più avendo realizzato una convenzione con l'azienda forestale hanno iniziato anche a pulire quello che è il boschetto di Fondachello e io ho chiesto non solo la pulizia ma una parte di sistemazione di quelli che sono gli alberi per quanto riguarda i rami che sono tutti in condizione di pericolo e nello stesso tempo ho chiesto all'azienda di liberare qualche area in modo che chi transita da via spiaggia possa vedere anche il nostro bellissimo mare. E adesso parliamo di Romeo, è un cane, un cane buono che è stato adottato dal comune di Acicastello, si trova in particolare nella zona di Cannizzaro. Vediamo. Ha una cuccia personalizzata vicino ad una scuola e due mamme adottive che se ne prendono cura ma era il resta libero di scorazzare e socializzare. Romeo è il primo cane di quartiere del comune di Acicastello con tanto di collarino rosso. Il randaggio catturato lo scorso aprile non è stato rinchiuso in un canile. L'amico a quattro zampe non è affatto aggressivo, lo hanno certificato i veterinari dell'ASP. Uno dei miei primi atti di indirizzo fu quello proprio di istituire l'ufficio benessere animali, pertanto ho seguito personalmente anche grazie al supporto del sindaco che è stato molto sensibile in tal senso questo iter burocratico dove comunque viene previsto che il cane deve essere microcippato, non deve essere un cane morsicatore e tra l'altro vengono previsti l'inserimento di alcuni tutor che si prenderanno appunto cura di questo cane. Romeo è un nuovo abitante di Cannizzaro. Come previsto dal regolamento comunale, le due tutor volontari riceveranno un piccolo contributo per accudirlo fornendogli tutto il necessario per stare bene. Spero anzi che grazie a voi ci sia più sensibilità verso l'abbandono degli animali o comunque quantomeno adottiamo i cani in canile. E chi è la responsabilità di questi cani adottati? Del tutore o comunque sempre del comune? In cosa consiste la cura appunto di chi li adotta? Allora, il comune rimane sempre proprietario del cane, quindi vi è una responsabilità diretta del comune. Infatti per questo vengono fatti alcuni controlli da parte dell'ASP abbastanza particolari. Però c'è anche da dire appunto che ci sono queste due signore, Cannizzaro che sono le tutor di questo cane, che si occupano appunto di lavarlo, dargli da mangiare ed eventualmente accudirlo qualora ci fossero anche spese mediche. Ma la proprietà rimane comunque del comune. Finisce qui il nostro appuntamento, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi ringrazio come sempre. Vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo sul sito che avete appena visto in Sofrimpressione. Non mi resta di augurarvi una buona serata. Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 13 giugno in Sicilia. Cielo sereno, poco nuvoloso, con velature persistenti soprattutto nella parte centrale dell'isola. I venti saranno deboli di direzione variabile con rinforzi da nord-ovest, i mari poco mossi. Le temperature. Ancora in salita nella zona orientale della regione. La città più calda sarà Siracusa con 35 gradi, poi Ragusa con 33, Catania, Agrigento 32. Le temperature minime, anche queste in salita, Enna 12 gradi, Caltanissetta 14. Grazie a tutti.